Io faccio l'imprenditore da 23 anni, iniziato come consulente nel settore delle vendite e poi mi sono lanciato l'istruttoria, prima nel settore delle farmacie, dal farmaceutico, poi real estate, finché negli ultimi vent'anni ho fatto il pregale, cosa penso io di questo? Ma di nuovo, da uno che da un anno ha visto comunque un mondo che è cambiato. Ho sempre ritenuto, e questa non ci travolgerà, ma hanno amplificato il dialogo e la conoscenza, non avrei mai immaginato che Facebook lanciasse la sua criptovaluta, ma... Quando c'è una nuova rivoluzione diciamo che ci si fa molte domande, no? Perché oggi poi siamo nel mondo del data, del big data, dell'informazione, della privacy. Però ho visto una correlazione importante tra rivoluzione digitale e rivoluzione blockchain. In effetti entrambe le rivoluzioni non erano attese. Trovatemi uno che nel 1996 pensava che la rivoluzione digitale avrebbe veramente cambiato totalmente il mondo. Avrebbe cambiato la nostra maniera di acquisire. Oggi molti di voi, quanti di voi hanno Amazon o comprano su Amazon? Forse dovremmo fare la domanda al contrario, quanti non lo fanno? Io magari mi metto insieme a te. Ho fatto pochi acquisti, forse tre. Eppure mi metto in digitale, però credo che l'80-90% lo abbia fatto. L'analogia quindi è molto semplice. La rivoluzione digitale non era attesa, eppure ha sconvolto in pochi mesi. Creando nuovi posti di lavoro, milioni e milioni di posti di lavoro. Cambiando le abitudini. Sono il fondatore di CoinShare. Io da solo un anno conosco la blockchain, come potrebbe dire. Aspetta Daniele che alla fine vi faccio domande sulla blockchain, non fatela niente. Però sono curioso.